Chi pratica l'utilizzo dell'energia sviluppando consapevolezza ogni giorno genera dei miracoli. Quello che stai guardando sono io che mi alleno l'altro ieri su tacche da 0,5 in legno che ho messo sul mio muro un anno fa con l'intenzione appunto di un giorno riuscirle ad utilizzare. L'anno scorso ovviamente io le ho solo iniziato a toccare e questo è il risultato dopo un anno che avrò impiegato neanche 5-6 ore alla dedizione dello sviluppo della percezione, dello sviluppo appunto di riuscire a comprendere come poterlo fare, come poterle tenere e alla fine è accaduto e questo grazie al fatto che mi sono messo nella migliore condizione di poter riuscire, cioè adattandomi lentamente, poco alla volta, in maniera tale da essere, diventare inesorabile. Quindi se noi riusciamo a veramente a ridurre al minimo lo sforzo e l'energia impiegata riusciamo anche a controllare il verso e a mantenerla in quella direzione e diventiamo inesorabili, irrefrenabili perché continuamente constateremo il nostro potere. Grazie a tutti!